Continuano le iniziativa in difesa della piazzetta adiacente, la porta antica di Agropoli, oggetto di contesa tra il comune, i privati cittadini Lista Tiziana e Alfonso Maria Pepe, che ne reclamano la proprietà. Infatti il 28 giugno prossimo il Tribunale di Vallo della Lucania dovrà esprimersi per accertare e dichiarare o meno l'acquisto per uso capione della proprietà condominiale dell'area Terrazza, indivisa in via Piazza San Severino, nonché l'inesistenza di diritti domenicali o servitù di uso pubblico in favore del comune. Il comune di Agropoli sarà difeso gratuitamente dall'avvocato Luigi Acerbo, mentre l'avvocato Giuseppe Colopi rappresenterà Lista e Pepe. Intanto si mobilita la cittadinanza agropolese che per il giorno 28 maggio alle ore 18.30 ha organizzato un evento dal titolo Questo bel vedere è suolo pubblico per manifestare in difesa della piazzetta. Perdere uno dei balconi sul mare più belli del nostro paese sarebbe una vergogna, si legge nel comunicato. La piazzetta sugli scaloni che precede la porta del borgo antico è suolo pubblico. Tutti noi agropolesi abbiamo il diritto di lottare per difenderla e abbiamo il dovere di proteggerla da uno sciacallaggio privato. Venerdì 28 maggio alle ore 18.30 godiamoci la splendida vista del porto di Agropoli dalla piazzetta pubblica. Ognuno di noi, se vuole, potrà esprimere un pensiero sul tentativo di privatizzazione. Attueremo un'occupazione simbolica mantenendo le distanze per il Covid-19 come previsto per legge. Alla manifestazione sono invitati anche gli amministratori del comune di Agropoli, in particolare il sindaco Adamo Coppola e l'assessore Vanna D'Arienzo che nel mese di febbraio avevano programmato un'intitolazione della piazzetta ma che a causa del Covid-19 fu rimandato a marzo. Anche quest'ultimo appuntamento fu annullato e ad oggi nessuna notizia. Sulla piazzetta sono state già realizzate e pronte per l'installazione una scenografia particolare dedicata agli innamorati, due panchine e una targa prestigiosa.